Salve a tutti, Team Colmice nuovamente in azione, sono venuto dal Massimo, se ben ricordate qualche anno fa abbiamo fatto un video dentici allo scarroccio ed oggi dove andremo? Andiamo a provare questa volta a Traina perché il mare dovrebbe essere tranquillo e ce lo consente su un relitto davanti a Diareggio. Mi sono procurato 5-6 seppie vive, speriamo bene. A questo punto non ci resta altro di andare in mare. Grazie a tutti. Siamo, Dot? Sì, vediamo. Guardiamo che navighi bene. Direi che è perfetta. Anche con un motore solo andiamo un po' troppo forte nonostante gli alettoni dietro e quindi butto le ancore galleggianti. Se poi dovessimo andare troppo piano mettiamo due motori. Andiamo. 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 ripartita calcio nuovissimo e carbonio e montatura acida ideale per queste creole veriterranee per quanto riguarda il terminale abbiamo utilizzato il Seagal Pink Label 66 di diametro novità assoluta per il fluorocarbo molto soffice e resistente alla abrasione abbiamo testato anche il nuovissimo moninello Daytona un concentrato di potenza e tecnologia ideale per questa azione di pesca a questo punto non ci resta altro che salutarvi e alla prossima come sempre dal Team Colbici ciao 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 ciao